La missione dell'Ufficio Diocesano del Lavoro per la custodia del creato e lo sviluppo di sani stili di vita è quella di valorizzare il cibo e le eccellenze, recuperando antiche tradizioni e puntando sulla salute e su prodotti biosostenibili. Ci spiega meglio il progetto Sabino Inassenzio. Commissione per la custodia del creato e lo sviluppo di sani stili di vita. Di cosa si tratta? Ogni diocesi in Italia ha istituito una commissione. Questa commissione fa capo all'Ufficio Diocesano per il Lavoro e i Problemi Sociali e siccome il Papa nell'ha laudato sia dato avvio a una grande novità che è il concetto di ecologia integrata, noi di quello ci occupiamo. Quindi un'ecologia che è sociale, l'ecologia dell'essere umano e l'ecologia della terra. Dei progetti anche da parte della Caritas per quanto riguarda anche il cibo? Sì, la Caritas da sempre si occupa di sani stili di vita e della diffusione nelle parrocchie per tutti, quindi per le famiglie, per i più piccoli, per i bambini. In questo momento è attivo in alcune parrocchie satellite, che ovviamente sono centro per zone, quindi raccolgono diverse altre parrocchie, dei progetti legati ai sani stili di vita. È un progetto a cura di Giorgia Celi. Io sarò la dietista che parlerà insieme alla psicologa di rapporto di bambini e genitori a tavola, ma in effetti ci sono diverse tappe. Noi ci occupiamo di salute, ma anche di contatto e rispetto alla terra e di presa di coscienza su quello che è il nostro territorio e i frutti, come nutriamo i frutti che ci nutrono. Anche per quanto riguarda le tecniche di coltivazione tradizionale. Sì, certo, le tecniche di coltivazione tradizionale tipiche italiane, ma di tutti i popoli, hanno sempre rispettato la terra, quindi non hanno mai impattato negativamente sul territorio. Quindi è bene diffonderle. Oggi siamo già all'economia 4.0, quindi oggi nel 2019 parliamo di tradizione, con l'occhio ai giovani e all'innovazione, al lavoro, perché tutto questo deve generare lavoro e quindi non creare un lavoratore usa e getta come fosse un contenitore di plastica poi da smaltire. Noi ci chiamiamo non a caso coordinamento per la custodia del creato. Vogliamo comunicare che noi non siamo i padroni della terra, ma i custodi per le prossime generazioni.